Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di cipolle bianche Olio Un cucchiaio di farina Un litro e 25 di brodo Crostini di pane Grana grattugiato e sale Preparazione Sbucciare le cipolle Affettarle Farle appassire nell'olio e spolverizzarle di farina Versare il brodo Salare e far cuocere per circa 20 minuti Suddividere il brodo in 4 piccole pirofile con i crostini di pane tostato Cospargere di grana Far gratinare in forno e servire Il piatto è pronto Buon appetito!